Oggi vediamo come configurare un driver di una stampante Zebra ZT410 per la stampa di un cartellino con tacca nera. Come potete vedere abbiamo il nostro rotolo di cartellini, il frontale è neutro bianco per la stampa e sul retro abbiamo queste tacche di riferimento che sono proprio l'altezza del cartellino. Passiamo ora al driver, passo destro, preferenze di stampa. Consideriamo il nostro cartellino largo 100 mm e alto 120 mm che corrisponde alla distanza tra le due tacche. Impostiamo la velocità, essendo una stampante industriale ha una velocità molto alta, arriva fino a 304 mm di carta al secondo, in questo caso settiamo la velocità media. L'intensità è la temperatura di stampa e questa selezione dipende dal nastro utilizzato. Se usiamo un nastro cera, una temperatura bassa, un nastro cera resina, una temperatura media e un nastro resina, una temperatura alta. Ipotizziamo che stampiamo un cartellino patinato e con nastro cera resina. Imposto una temperatura 18. Adesso passiamo alla misura, impostato a millimetri, larghezza abbiamo detto 100 mm, altezza 120 mm. Andiamo sull'impostazione. Essendo un cartellino pretagliato, quindi metto modalità di operazione e strappo. Qui prima per default c'era taglierino, se si utilizza una stampante con taglierina, ma in questo caso non serve, lasciamo strappo. Stiamo utilizzando il nastro di stampa orribuo, quindi il tipo materiale è trasferimento termico. Modalità sensore carta, dobbiamo andare a rivelazione e tacca nera di riferimento. Le altre due opzioni sono modulo continuo, se non c'è nessuno riferimento, e percezione web, se si utilizzano etichette con gap o cartellini con foro. A questo punto premo il tasto applica, faccio ok, andiamo sul proprietà stampante e posso premere il tasto stampa pagina di prova. Se il risultato è il risultato è il risultato.